Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Badland 3 Bene andiamo a mettere la chiave Vediamo che succede, ha detto che dobbiamo aspettarci il peggio E vediamo un po' perchè Tutti i collegamenti con le cripte sono stati stabiliti Torna da me, nobile Typhon E anche tu cacciatore Lilith, forse è il caso che tu lo veda di persona Arriviamo Qui c'è qualcosa che ne sono andato Senti Numi, stermina quello sciame di mostriciattoli cacciatore Eh vabbè Tannis sta funzionando Tannis Wow Wow costa da sta roba eh E' tutta gratis insomma 30.000 addirittura Ok io l'ho fatta eh Visto che c'era qualcosa Ci vado magari c'è qualcosa di buono Sono contento Vediamo pure E vediamo cosa fare Quanto distante è il posto dove dobbiamo andare Dico eh beh siamo arrivati dai Ok Eh c'è voglia Quanto va lì? 7.000 Mamma mia che barbonata insomma Però Che sensazione sublime Cioè in effetti è stata bella eh Che carità Che cazzo di vanno a chi che sta sparando Ah mi sta sparando da lì scusate E' perché è downtown Ma che cazzo è che sparare? Non ho capito Non ho capito Vabbè Ok Che perdita di tempo Perfetto Siamo pure Ho scusato questa è strana Vorrei vederla Magari vi esce qualcosa di buono Non esce un cazzo di niente Sono contento dai Noi siamo arrivati dai ci preoccupiamo troppo Eccoci qua Ecco Lilith Vediamo cosa succede Sono curioso Le cripte sono collegate Ma la macchina non è attiva Pandora sta continuando ad aprirsi Forse serve un tocco di sirena Eh Allora la toccherò Come disse il nichilista sul letto di morte O la va o la spacca Ok Ora è tutto chiaro Per tutti i prosciutti Che roba Tannis tutto bene? Sì Un tale potere Io ne sono al ricettacolo Pandora si sta chiudendo Perfetto Funziona Ecco sì Purtroppo mi tocca fermarvi qui FDC in arrivo Ava Non farli avvicinare a Tannis Ava come l'Ava Questa cosa qua Ci siamo Sai cosa fare killer? Sì Ti aiuto io cacciatore Ah beh Allora siamo posto Capolinea super fan Per te ovviamente Quando io e Troy eravamo piccoli Guardavamo il cielo notturno E sognavamo di diventare stelle Le più brillanti di tutta la galassia Diceva sempre noi Stellina Non farlo Quindi siamo fuggiti da questo pianeta Siamo andati su Pandora per diventare cacciatore Per aprire la cripta delle cripte E diventare le stelle più brillanti della galassia Perché no? Devi ascoltarmi Non andrà a finire come pensi tu Credimi Adesso sembrano così piccoli quei sogni Indegni di una dea Divorerò tutte le stelle dell'universo Una dopo l'altra Finchè niente brillerà Tranne me Porca va Non finisce qui Dispersione Ok Andata piuttosto bene Mi fa tanto piacere per te Adesso vi vengo a dare questo Regalino per voi Tutto qua Tutto qua c'è stato un bello Bello che da fare Eccoci qua A posto Ci sono Quasi È arrivata Resistiamo Eila Oh è per me Non ci siamo già passate, Lilla? Basta così Eila, stellina! Eila, stellina! Lassami! No! Ti ho lasciata una volta e guarda com'è finita Vecchio codardo! È tutta colpa tua Ci ho rinchiuso qui quando avremmo dovuto conquistare l'universo! Vi ho dato quel che ho potuto Non mi basta! Mi prenderò quello che mi spetta! Perdonami, stellina No... No, no! Oh no! No! Oh no! Typhon! Dovete fermarla. Per me è troppo tardi ormai, ma promettetemi una cosa, non siate gli ultimi cacciatori. Non lo saremo. Oh, porca vacca. Pandora sta per andare a pezzi, ma sarà l'ultimo dei nostri problemi se Tyreen riuscirà a consumare il distruttore. Dobbiamo fermarla. Typhon ci ha salvati per ora, ma non saremo sempre così fortunati. Lilith, forse ho trovato una scorciatoia per raggiungere Tyreen. La macchina opera su distanze interstellari. Deve esserci un modo... Sì! Posso sfruttare il collegamento con Pandora per aprire un portale. Senza di te saremmo già morti mille volte, Killer. Continuo a ripetermi che il mio posto è in prima linea, ma un vero comandante deve sapere quando farsi da parte e lasciare spazio ai propri soldati. Questa è la tua battaglia. Funziona! Posso aggiungere tempo e spazio all'elenco delle cose sulle quali ho il completo controllo. Vabbè. Il distruttore è quasi libero. Ci sei, Killer? Sì. Non fuggo mai da una battaglia, comandante. Ok. Vada come vada, questa guerra finirà su Pandora. Entra nel portale e trova Tyreen. Ci vediamo dall'altra parte. Ci vediamo dall'altra parte. Ok, vediamo un po'. E quindi anche Typhon è morto. Vediamo tutti su di te, Killer. Il distruttore sta facendo a pezzi il pianeta. Devi firmare Tyreen. Pandora sarà anche un inferno, ma è il nostro inferno. Se anche fermassimo Tyreen, Elpis rimane comunque troppo vicina a Pandora, la grande cripta continuerà ad aprirsi. Ci penseremo quando Tyreen sarà morta. Un'apocalisse alla volta. Eh. Siamo in orbita, Cici. Ti tengo d'occhio dalla Sanctuary, tesoro. Pandora si sta per aprire come un uovo, ma non posso guardarti combattere quella super stronza senza far niente. Quindi? Quindi? Ok. Perfettico. Hola! Finalmente! Non avrò pietà, superfan. Non sono quel tipo di idea! Oh! Lo preferivo prima, non so perché. L'ha distrutto. Ci siamo, Killer! Falle vedere che anche gli dèi sanguinano. Ok. Ok. Seppermune adesso. Oh! No basta! Ne voglio ancora! L'occhio sulla schiena! Attaccalo! E che cazzo sta attaccando? L'occhio sulla schiena. Non questo. La schiena. La schiena è la schiena. Sono abbastanza sicuro che la schiena sia la schiena. Però che io prenda l'occhio o che prenda altro. Ok. Ok. Qua? Ok. Eh, lo so. Questa pistola ha un lato negativo. Dove devo correre? Poca vacca. Sono carica. Benissimo. Avanti il prossimo. Andata. Ok. Ce la faccio, la faccio. Se riesco a capire dove cazzo sono questi. Ok. Allora aspettate. Devo prendere... No, la pistola. Non so neanche io cosa prendere. Arrivo, arrivo. Perfetto. Provate a fermarmi. Ok. Dittemi cosa devo fare. Attenzione! Ok. Devo solo capire... Opla! Cosa fare? Mi serve un piccolo aiuto! È tutto tuo, cacciatore. Arrampicati! Eh... Eh... Ci posso anche riuscire, eh? Devo capire dove rampicarmi. Ok. Dal piede. Eh, cazzo. Ora è la tua occasione. Nessuna pietà! Io l'ho spinta. Ce l'ho... C'è... C'è il cerco. Questo... S mezzo? Ok. Todo il fuoco. Perché la pietà è feita difesa? P Hydra. Noc, fermo! Yessutno! Abbassare un palbo! E ce l'abbiamo fatta Lilith è ritornata normale Adesso è contento Una volta tanto che non si è compenetrato Nel senso che tutti quelli che ho giocato Sono tutti compenetrati Allora vediamo un po' No Cioè mi avessi dato Castigo divino Ok cerchiamo di dire Ma guarda un po' Di capire appunto 11.000 Niente di leggendario Ci ha dato Vabbè pazienza Che vi devo dire Andiamo se c'è qualcosa Ma dubito Vabbè andiamo alla cripta E vediamo un po' Non è stato difficile Qualcosa di viola mi ha dato Cacate Questa ce la roba Chi lo sa Ok Vai È stato divertente Per carità Avevo un'arma Che mi faceva danno anche a me Quindi insomma Saccheggia la cripta Adesso vediamo la cacata Che mi uscirà Mamma mia Allora voglio un attimo Usare Quelle Gli usati Consumabili Si chiamano questo Questo Se non ce ne sono altri Dovremmo essere a posto E Basta C'è tutto qua Ma dai Ci sarà qualcos'altro Vediamo un po' Forse questo Questo mi sento che è qualcosa di buono Eh Soldi Ma porca vacca Vediamo qua Ah si si qui c'è Qui c'è Questo no Questo si potrebbe essere anche buono Una pistola Sarà male della nostra No per il cazzo Perché la nostra fa 4.700 Questo fa male di te Ma come è possibile Ma porca vacca Vabbè Pazienza Bah Questa roba Non mi sembra così buona Non c'è più niente Vero Posso andarmene Andiamo via Lascia la cripta Sta arrivando Eh Non mi preoccupate Siamo a postolo Vai Vediamo cosa ci dicono Cacciatore ce l'hai fatta Tyrin è morta Ma morta morta Non Non tornerà più Vero Beh L'ho vista morire E trasformarsi in cenere Mi sembra piuttosto improbabile Hai riavuto i tuoi poteri Bella sensazione Vero Ho passato così tanto tempo Senza che mi ci stavo Quasi abituando Ma è una bella sensazione Sì È finita Non del tutto La grande cripta continua ad aprirsi Elpis sta distruggendo Pandora E come la fermiamo? Semplice Non la fermiamo A meno che Eto non sappia come togliere la luna dal cielo Dritti verso la morte La sanctuaria è tua Ava Sei pronta Cosa hai intenzione di fare Lilith? Chiudere la grande cripta Sta salvando Pandora Ma... ma si ammazzerà E lo sa È l'aquila di fuoco Ma si ammazzerà Ma si è l'infer prize Se n'è... andata? Non del tutto. Lei illumina il cammino. Oh cazzo, è morta Lilith, porca quanto mi dispiace. Il gioco mi è piaciuto veramente tanto, finalmente sono riuscito a portarlo a termine dopo che avevo preso Day One. E' passato un po', ma me lo sono goduto tutto, con tutti gli elicini, tutte le espansioni, quindi sono contento di aver fatto così. E niente ragazzi, io sono soddisfatto, finirò le ultime due o tre quest off camera, che sono poche e poche. E quindi io come al solito vi invito a lasciare un like, come se ci è piaciuta la serie di Fabio, potete sapere cosa ne pensate, però adesso vi saluto la Siva, ciao ciao! Grazie a tutti! www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti